Sì, sono rotti, hanno mille riparazioni per Dottor Napoli. Il nuovo lavoro è difficile, non mi fidate, vi fidate, ne mangerò un in più. Giorgio, che carico, come una molla Guardate, riprendi l'aria, la padella, riprendi 10 uova intanto, fate così Aspetta, abbassa, abbassa il po' Guardi, oh, non ti devi apposta Devi fare a manetta, porca puttana Oh ma Giorgio, te devi mangiare Guardi, 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 guardi Guardi, 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 guardi Guardi, 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 guard No, mi fai la pezza! No, no! Perché? 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 Grazie a tutti.